Musica Hello bella gente, benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Irene, ho 17 anni e frequento un istituto tecnico turistico. Quindi come tale studio tre lingue. Inglese, francese e tedesco. Nonostante queste tre materie che sono di indirizzo, studio anche altre materie, come economia aziendale, diritto e tutto ciò che potrebbe servirmi nel mondo del turismo. Senza dimenticare la storia dell'arte che è alquanto odiosa come materia e non mi piace per niente. Nonostante questo io ho molti hobby, tra i quali la fotografia e il videomaking ed è per questo che ho deciso di aprire un canale YouTube. Avevo bisogno di uno spazio dove potermi esprimere liberamente e dove poter caricare tutto ciò che mi passava per la testa. Quindi ho deciso di creare questo canale e quindi questo sarà una sorta di diario della mia vita. Vi mostrerò dei posti che magari andrò a vedere oppure vi racconterò magari dei trucchetti che utilizzo io per andare bene a scuola, dei trucchetti che utilizzo io per fare delle foto in un modo particolare o cose del genere. Non sarà un canale come gli altri perché ci metterò tanto ma tanto impegno dietro ogni video e questo già è un piccolo assaggio. Ma non vi preoccupate perché con il tempo ci saranno tanti piccoli accorgimenti durante tutti i video che vi aiuteranno ad apprezzarli per quello che sono e vi renderanno molto orgogliosi del mio lavoro. Almeno lo spero. Comunque sia il mio obiettivo qui su YouTube è condividere le mie passioni, condividere ciò che conosco con le altre persone. Quindi se volete supportarmi vi sarò davvero grata. Innanzitutto vi invito ad iscrivervi al canale, trovate il tasto rosso qua sotto, ovviamente gratis, e se volete potete anche attivare la campanellina delle notifiche che vi aiuterà a non perdervi nessun video. Prima di finire vi invito a seguirmi anche su Instagram, è molto importante, trovate i link tutti qua sotto in descrizione e ci sono tante cose interessanti che potreste vedere. Quindi mi raccomando seguitemi su Instagram e iscrivetevi al canale attivando la campanellina. E niente, io vi ringrazio per la visione di questo video, vi do appuntamento ad un prossimo video che sarà nel più breve periodo possibile. E niente, noi ci vediamo. Bella!